Quindi la prima cosa che vanno in un altro paese fa una foto e la manda a tutto il mondo. Quindi tutto il mondo si sta acostumbrando a avere più colori in sua vita, più cultura in sua vita, più differenze in sua vita. Quindi questo tipo che è tecnologico ci porta a viaggiare andando a casa o ci porta a tollerare più colori. Stiamo facendo qualcosa insieme per il piacere e per il gusto di fare crescere meglio le decorazioni interiore. Quindi credo che questa è la cosa, il piacere di entendere, di conoscire. Grazie